E' una bellissima biblioteca che parla anche della storia dei nostri territori, ma non solo, di personaggi che sono stati ospiti qui a Soveria Mannella e che sono personaggi importanti italiani, a Vittorio Sgarbi, a Gratteri, a Cossiga. Insomma, un bellissimo patrimonio che è quello della biblioteca in un bellissimo posto che è questo palazzo storico. Grazie.